Il Covid non molla affatto la presa in provincia di Agrigento, dove nelle ultime ore ci sono stati 1329 nuovi casi, 542 le guarigioni, ma il dato preoccupante è un altro, quello che fa riferimento ai ricoveri, ce ne sono stati altri 5 e alle vittime. Ci sono stati altri 3 decessi nelle ultime ore avvenuti nei comuni di Agrigento, che sale a 43 soggetti stroncati dal Covid, a Canicattì, dove adesso le vittime sono 55, e a Favara, dove le vittime sono salite a 29, mentre su scala provinciale il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è salito a 490. Ancorché ci siano stati 5 nuovi ingressi in ospedale, la situazione dei ricoveri si mantiene tutto sommato stabile rispetto al precedente bollettino. Sono 16 pazienti in area medica al San Giovanni di Dio di Agrigento, 15 in degenza ordinaria al Fratelli Parlapiano di Ribera, dove si trovano anche ricoverate 5 persone in terapia intensiva, per un totale di 36 agrigentini ospedalizzati, mentre è salito a 10.490 il numero dei soggetti che si stanno curando a casa. Contagi in aumento in tutti i comuni della provincia. A Sciacca sono 747, significa 80 in più rispetto al giorno prima, nonostante ci siano state anche 24 guarigioni nelle ultime ore. Aumenta nei casi anche a Ribera, dove adesso sono 326, 40 a Sambuca di Sicilia, 94 a Santa Margherita Belice, 48 a Santo Stefano Quisquina, 160 nella Piccola Siculiana, 22 a Villafranca Sicula, 1305 ad Agrigento, 89 a Bivona, 12 a Burgio, 13 a Calamonaci, 31 a Caltabellotta, 1434 a Canicattì, 64 a Cattolica Eraclea, 30 a Cianciana, 1115 a Favara, 673 casi a Licata, 8 a Luccasicola, 322 a Menfi e cioè una trentina in più, 93 a Montallegro, 36 a Montevago. Altissimo il numero dei contagiati anche a Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali e Ravanusa.